Preghiamo per il carattere sagro e violabile delle famiglie affinché venga riconosciuto e valorizzato. Così Papa Francesco dopo l'Angelus ha sviluppato questo importante tema, celebrando la festa odierna della Santa Famiglia di Nazareth e salutando le famiglie riunite in varie parti del mondo come madri di Spagna. Prima dell'Angelus Papa Francesco ha sottolineato che mentre pensiamo alla Santa Famiglia di Nazareth di fuoco in Egitto e profuga, pensiamo al dramma di quei migranti e rifugiati che sono vittime del rifiuto e dello sfruttamento. Pensiamo però anche agli esiliati nelle loro stesse famiglie, come gli anziani. L'annuncio del Vangelo, ha ripetito il Papa, passa attraverso le famiglie perché lì si sperimenta la tenerezza, l'aiuto vicendevole, il perdono reciproco. La famiglia è il luogo del progetto, del rifiuto anche, a volte dell'abbandono, ma soprattutto il luogo dove si sceglie la vita e la dignità. Santa Famiglia di Nazareth ha papergato il Papa, mai più nelle famiglie si faccia esperienza di violenza e divisione e che è stato ferito conosca presto, consumazione e guarigione. Grazie. Grazie. Grazie.